Go Jax! Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera ragazzi! Io sono Claudia e questo video sarà in italiano. Sarà in italiano perché oggi voglio portarvi insieme a me ad una partita di football. E ho pensato, siccome gli americani sanno già tutto di football, voglio cercare di condividere con tutti voi italiani, cercare di farvi conoscere qualcosa di più riguardo questo sport e riguardo a tutto quello che succede in una partita di football. Quindi, iniziamo col video! Ieri, 4 settembre 2015, sono andata alla mia prima partita di football americano ed è stata veramente un'esperienza fantastica, nulla da aggiungere. Ma, cosa succede in una vera partita di football americano? Innanzitutto, che squadre giocavano? Giocava la mia scuola, quindi Flower Mound High School, e gli Indian Keller. Sicuramente non avete idea di cosa stia parlando, ma non vi preoccupate perché non è questo il punto. Dove si è svolta questa partita? Questa partita si è svolta nello stadio di football della mia scuola. Guardate le immagini perché è veramente uno stadio enorme e appena sono entrata sono rimasta. Oh mio Dio, se questo è lo stadio di una scuola, immagino uno stadio in cui si svolgono partite, insomma, un livello superiore. Ma, cosa do you think? We are going to win? Of course we are going to win! We have to race! Prima che in campo entrassero le due squadre, siamo stati allietati dalla musica della banda della scuola. A voi! Grazie a tutti! E ovviamente, prima che la partita inizi, è d'obbligo l'inno americano. Mano sul cuore, silenzio, a voi. Programmi hanno anche la musль per le specieerti di questa af somehow, grazie a tutti? Vieni, le fede sono i due sau. allora campagne sta campando. Allora. Allora, allora rockьте la 멤� Epic. Ma sono, basso come hallеци e regolari assassino. Questa è mi, baia! Ma sono, c'è l' encouraged venire a opera. Tocca e la musica e il mondo, Il ritmo della partita è subito altissimo e passano veramente pochissimi secondi fino a quando Flower Mound conquista il primo touchdown! Non fatevi ingannare però ragazzi, perché mi è stato detto che la squadra di football americano della mia scuola non è proprio una delle migliori, ha infatti vinto, cosa, cinque partite negli ultimi dieci anni? Ma l'importante è partecipare ragazzi! Go Jax! Una partita di football americano è composta da quattro tempi da dodici minuti ed è alla fine del secondo tempo che secondo me avviene la parte un po' più interessante, infatti dopo il fischio dell'arbitro entrano in campo cheerleaders, bande della scuola, rosettes, sbandieratori e chi più ne ha più ne metta! Vi lascio adesso alcuni spezzoni di questi fantastici momenti! Grazie! 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 Grazie a tutti. La partita prosegue, finisce e Flower Mound perde. Ma come dice un antico proverbio cinese, l'importante non è vincere, ma partecipare. Ragazzi, prima di chiudere il video, piccola anticipazione. Domani partiremo per San Antonio. Quindi, state pronti che nei prossimi giorni vi farete un altro piccolo viaggetto insieme a me. Ciao!